Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ennesima tragedia che si abbatte sull'Italia. Una giovane vita è morta a causa di un ifatto fulminante mentre si trovava in Sardegna. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. In spiaggia tutti sotto shock. Tragedia in Sardegna. Un ragazzo di 24 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 luglio, mentre faceva il bagno. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma appena arrivati non hanno potuto far altro che decretare il decesso. Il fatto è accaduto sulla costa di Portopino, nel Sulcis, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Il ragazzo, che sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava, è stato subito trascinato sul bagnasciuga per i primi soccorsi, ma non c'è niente da fare. La prima chiamata al 118 poco prima delle 13.30. L'ambulanza è arrivata subito in spiaggia e l'equip medicalizzata ha tentato più volte di rianimare il giovane, ma senza esito.